C'è un'attività importante per l'agricoltura per l'agricoltura Oggi, in EMA International, l'agricoltura è lanciata il nuovo observatorio di young farmer perché è una preoccupazione centrale per l'agricoltura in Italia. Abbiamo molti buoni prodotti, molti buoni tecniche, ma l'età dei farmaci è diventata più vecchio. Abbiamo molti bambini con nuove idee, con nuova propensione per l'agricoltura e l'agricoltura è cercata di collegare questo nuovo corpo, questa nuova vita al mercato, all'agricoltura, per dare loro una possibilità di avere un mercato, di avere un'idea, di avere una connessione al mercato e una nuova possibilità di avere un'attività pubblica che l'Unione Europea e l'Italiano Stato hanno dato a loro, a loro, a loro, a loro, a loro. Farmer. Grazie. Grazie. Grazie.